buonasera ben ritrovati a tutti in diretta da francesco modeo ho appena pubblicato un articolo sul mio blog che sta anche facendo abbastanza scalpore segno che è una problematica che riguarda tante persone sto parlando dell'articolo sulle segnalazioni bancarie come cattivi pagatori un fenomeno del quale io mi sono reso conto da poco tempo della gravità di questo fenomeno mi sono reso conto da poco tempo e sono stato catapultato in questa che a mio avviso è una vera e propria emergenza economica e sociale del paese mi sono recato infatti l'altro giorno come raccontavo in un negozio di telefonia avrei dovuto acquistare un telefono nuovo perché tanti di voi mi avete segnalato che c'è bisogno quando faccio i video di un'immagine più nitida di un migliore audio quindi avevo io un telefono molto vecchio ho ritenuto opportuno ascoltare il consiglio e recarmi in un negozio di telefonia ho scelto un telefono più performante quindi costava intorno ai 1000 euro ma il venditore mi ha detto non ti preoccupare perché ovviamente così come avevo io pensato di fare c'è la possibilità di rateizzare l'importo con una cifra mensile veramente irrisoria ho accettato scelto il telefono quando siamo andati a fare la pratica il mini finanziamento quindi parliamo di un finanziamento di 1000 euro è stato bocciato per una vecchia segnalazione nella centrale rischi quindi per qualche rata non pagata in passato per qualche sconfinamento sul conto corrente il venditore prontamente evidentemente anche pensando che la cosa potesse in qualche modo mettermi in imbarazzo mi ha detto guarda non ti preoccupare perché una pratica su 5 non va a buon fine a causa di queste segnalazioni spesso avviene anche quando vengono clienti che noi sappiamo essere benestanti ma basta veramente qualcosa accaduto nel passato un elettrodomestico una rata non pagata lo sconfinamento sul conto corrente una revolving card qualsiasi motivo passato può portare a questa segnalazione molti mi ha detto non lo sanno neanche lo scoprono come è successo a te proprio durante l'acquisto altri invece ritengono che non ci siano gli estremi per essere segnalati quindi magari possono essere incorsi in qualche errore bene con queste frasi il venditore inconsapevolmente mi ha aperto un mondo mi ha spalancato veramente le porte di un fenomeno che deve essere indagato deve essere denunciato perché deve essere denunciato perché riguarda milioni di italiani sono andato a documentarmi quasi 20 milioni di italiani sono segnalati come cattivi pagatori vuol dire che sono 20 milioni di italiani che non possono avere accesso al credito accesso al credito vuol dire per qualcosa di grande come può essere l'acquisto di una casa quindi un mutuo ma anche qualcosa di piccolo ma di necessario come può essere la macchinetta per i denti per la propria figlia da pagare a rate perché magari un dipendente può non avere immediatamente tutti i soldi l'acquisto di un telefonino per lavoro come è accaduto a me o per tanti altri motivi chi ha avuto una segnalazione ha ricevuto praticamente una sorta di ergastolo finanziario anche perché questa segnalazione viene tolta automaticamente dopo un tot di anni a partire dalla fine del finanziamento quindi è davvero una cosa gravissima ho pensato subito alla prima domanda che mi sono posto da giornalista cui protes cioè chi guadagna da questo numero enorme di segnalazioni da questo fenomeno i primi a guadagnare ovviamente sono quelle quelle agenzie che si occupano o delle segnalazioni come la crif centrale rischi finanziaria queste agenzie si chiamano invece in gergo sic sistemi di informazioni creditizie sono proprio quelle banche dati private che hanno il compito di raccogliere le informazioni sul percorso creditizio e finanziario che riguarda la vita di ogni di ogni persona bene crif per esempio una spa partecipata anche dalle dalle stesse banche questa è un'altra anomalia che ho scoperto bene crif ovviamente ci guadagna perché vende i dati dei segnalati quando appunto le banche fanno una interrogazione in in crif altri che ci guadagnano sono le banche e qui vi prego di prestare un attimo di di attenzione perché questa è la parte più importante ma quella meno visibile ai più perché le banche dovrebbero guadagnare nell'avere sempre meno persone che hanno accesso al credito questo accade questo fenomeno da quando alcuni anni fa lo sapete bene soprattutto chi segue il mio canale è stata tolta la divisione tra banche commerciali e banche d'affari che cosa vuol dire prima le banche dovevano scegliere o erano banche commerciali quindi potevano prestare soltanto ai cittadini o erano banche d'affari quindi si occupavano delle operazioni sui mercati bene da quando è stata tolta questa divisione quindi una decisione veramente sciagurata le banche non sono più costrette ad una scelta quindi quando ricevono i soldi come è successo anche in passato ad interessi bassissimi dalla banca centrale europea per immettere liquidità nell'economia reale in realtà possono scegliere se vogliono fare speculazioni sui mercati se vogliono speculare sui paesi in crisi come è accaduto per esempio con i titoli di stato grece ricorderete quando la grecia stava per fallire quei titoli erano con degli interessi altissimi pur essendo poi garantiti da meccanismi come come il mess come i vari fondi salvastati europei che servono invece proprio a salvare le speculazioni delle banche nei paesi in crisi bene le banche quindi sono chiamate ad una scelta possono o speculare sui mercati o prestare soldi a individui e famiglie quindi all'economia reale ovviamente le banche preferiscono utilizzare quei soldi per le speculazioni perché nella maggior parte dei casi sono più redditizi quindi hanno interesse oggi che sempre meno individui siano bancabili quindi sempre meno individui abbiano la possibilità di accedere al credito per grandi prestiti per piccoli prestiti per micro finanziamenti hanno in un solo colpo si sono tolti il pensiero di 20 milioni di italiani che non possono avere accesso al credito che non sono più bancabili questo veramente è a mio avviso uno scandalo enorme sia perché in qualche modo blocca l'economia provate a pensare alla frase che mi ha detto il venditore di telefoni uno su cinque esce da qui senza aver acquistato il telefonino perché non è passata la il mini finanziamento ma questo riguarda anche l'acquisto di automobili questo riguarda anche l'acquisto di elettrodomestici questo riguarda un po tutto per non parlare ovviamente dei mutui per le case per le ristrutturazioni delle case allora voi pensate soltanto che noi adesso stiamo andando incontro alle direttive per le case green imposte dall'unione europea quindi la nuova direttiva europea che impone che gli edifici debbano rispettare delle caratteristiche ossia debbano raggiungere una so una classe energetica in un determinato periodo di tempo quindi una certa classe energetica in un determinato periodo di tempo per fare questo per effettuare questo passaggio ad una nuova classe energetica ovviamente c'è bisogno di investimenti strutturali investimenti che costano ora che cosa accade che se un proprietario di immobili non ha la disponibilità economica chiede un prestito ma magari è stato segnalato in criff perché diversi anni prima non aveva pagato una rata di una revolving card o non si era reso conto di aver sforato il proprio scoperto bancario perché sappiamo che dal 2021 sono cambiate le regole quindi basta anche il rosso sul conto corrente per causare una segnalazione ebbene quel personaggio quel proprietario di immobili non potrà investire non potrà aggiornare la propria classe energetica non potrà mettere in essere quegli interventi strutturali per adeguarsi alle direttive europee risultato qualche anno dopo quel proprietario di casa non potrà vendere il proprio appartamento il proprio immobile non potrà affittarlo o sarà costretto a svalutarlo quindi una vera e propria patrimoniale sulla testa degli italiani ma di milioni di italiani perché questa segnalazione riguarda quasi 20 milioni di italiani il che vuol dire che abbiamo mezza economia bloccata da queste segnalazioni che in qualche caso possono essere legittime magari qualcuno che ha chiesto i soldi e poi non le ha voluti restituire perché ha voluto truffare le banche quello è un altro conto lì entriamo nella truffa ma teniamo presente che queste segnalazioni non entrano nel merito della problematica che ha portato il cittadino a non pagare la rata e qui voglio darvi la mia testimonianza perché qualcuno potrebbe dire eh però ci hai appena raccontato che anche tu sei segnalato quindi anche tu magari hai richiesto dei soldi che non hai voluto restituire bene io tanti anni fa la mia famiglia aveva una attività lavoravamo con il servizio sanitario nazionale con le ASL quindi noi effettuavamo nel centro delle prestazioni sanitarie che poi l'ASL doveva rimborsare bene in Campania le ASL pagavano i centri con esse convenzionati anche con dieci mesi di ritardo quindi lo Stato pagava l'imprenditore anche con dieci mesi di ritardo cosa assurda, impensabile e non veniva iscritto lo Stato in nessuna CRIF non era segnalato come cattivo pagatore non gli mettevano il bollino addosso come cattivo pagatore eppure faceva passare dieci mesi senza pagare gli imprenditori io adesso parlo nel comparto della sanità perché è quello che ho conosciuto tramite la mia famiglia ma la stessa cosa è avvenuta nel comparto dell'edilizia e in tanti altri compatti ora che cosa è accaduto? in Campania quindi con un aggravante maggiore per questo porto la mia testimonianza è che qualcuno potrebbe dire certo lo Stato non ti pagava ma tu non aspettavi dieci mesi per recuperare i tuoi soldi perché esiste il decreto ingiuntivo quindi tu puoi ingiungere e chiedere il pagamento che non ti è stato dato dopo qualche mese dalla scadenza della fattura no, in Campania si sono inventati l'impignorabilità delle ASL cioè tu potevi effettuare il decreto ingiuntivo ma non potevi pignorare le ASL quindi i soldi comunque non li recuperavi il che vuol dire che quei dieci mesi di ritardo diventavano anni motivo per cui tutti i finanziamenti che abbiamo come famiglia dovuto fare per pagare i dipendenti per pagare le attrezzature per anticipare tutto ovviamente non essendo rientrati i soldi dallo Stato si è finiti in CRIF come cattivi pagatori ma il cattivo pagatore era lo Stato non era l'imprenditore l'imprenditore ha avuto il bollino di cattivo pagatore ma chi non ha pagato è stato lo Stato che ha poi costretto l'imprenditore a non poter pagare quella rata questo non viene tenuto conto da queste agenzie private che fanno le segnalazioni quindi il cattivo pagatore sei tu quindi l'ergastolo finanziario lo danno a te e non lo danno dei giudici lo danno delle agenzie private delle agenzie private a loro volta partecipate dalle banche dalle stesse banche a cui vendono i tuoi dati vendono i tuoi dati definendoti cattivo pagatore in modo che la banca possa metterti il bollino addosso e da quel momento in poi tu non puoi cambiare l'apparecchio a tua figlia non puoi cambiare il telefonino non puoi cambiarti la macchina non puoi ristrutturare casa e presto non potrai adeguarti alle direttive per la casa e ti faranno svalutare il tuo appartamento legger son fait il gioco delle tre carte il cerchio si chiude ma questo è un sistema che riguarda milioni di persone milioni di persone che poverine in tanti non sanno neanche di essere finiti in questo circuito se ne accorgono quando vanno a fare un mini finanziamento io per esempio sono sempre stato contrario a qualsiasi debito con la banca però in questo momento mi sembrava opportuno non avendo i soldi cash per poter acquistare un telefono che a me serve per lavoro un telefono performante e lo vedete perché anche questa diretta viene da un telefonino sono dovuto ricorrere ovviamente a un prestito che mi sembrava abbastanza adeguato poter pagare 20-30 euro al mese e avere un telefono performante cosa che invece non ho potuto fare cosa che in tanti non possono fare ma in tutti i settori quindi da una parte mettono un freno a mano all'economia perché fermano interi comparti ho parlato con chi ha le agenzie immobiliari me ne hanno raccontate di tutti i colori perché non c'è solo chi non può acquistare casa perché non ha il mutuo c'è chi non la può ristrutturare c'è chi non la può ristrutturare prima di venderla quindi è costretto a svalutarla ci sono i negozi tanti negozi che vendono prodotti costosi che quindi devono essere acquistati per lo più con delle piccole rate bloccano metà economia ma nello stesso tempo bloccano i cittadini ergastolo finanziario cioè qui se commetti un reato grave dopo 5 anni sei fuori dal carcere se non hai pagato una rata riesci a rimanere segnalato per anni per anni perché la cancellazione poi avviene quando finisce il finanziamento ovviamente molti non lo sanno molti lo scoprono dopo o c'è chi lo scopre ma ha paura di dirlo ha vergogna di dirlo perché è un bollino negativo lo hanno chiamato cattivo pagatore motivo per cui invece io ho voluto fare una foto che ho pubblicato con il mio viso e con un cartello in mano come la foto segnaletica che fanno le persone che arrestano i criminali ho fatto una foto provocatoria ma reale reale con la scritta segnalato in crif non bisogna aver paura di raccontare non bisogna aver paura di intervenire e qui arriviamo poi alla nota dolente perché poi ho scoperto ancora un'altra cosa dici ok ma a chi ti rivolgi quando ti accorgi una cosa del genere Google ha impedito alle società serie che si occupano di ripristino del credito altra inaccettabile anomalia se c'è un'agenzia seria che si occupa di ripristino del credito e vuole fare la pubblicità su Google per arrivare a te non può farlo perché non vogliono che qualcuno vi aiuti a tornare bancabili perché non vi vogliono bancabili non ci vogliono bancabili vogliono che resti con il tuo bollino appiccicato addosso ovviamente inutile dirlo ho trovato nelle mie ricerche anche tante persone che se ne approfittano quindi anche tante persone che offrono un servizio che poi non possono mantenere perché ovviamente come si dice piatto ricco mi ci ficco sono quasi 20 milioni le persone che hanno questo problema la truffa è facile da fare allora mi sono cominciato ad interfacciare con un po' di consulenti cercando di capire chi mi ha dato delle dritte giuste chi invece non è a mio avviso affidabile e se avete questa problematica se posso essere di aiuto in qualche modo perché state vivendo la mia stessa problematica e possiamo fare parallelamente questo percorso c'è una mail a cui potete scrivere noi chiocciola francescomodeo punto it e mi raccontate la vostra storia o mandate un messaggio whatsapp mi raccomando un messaggio non è un telefono per ricevere chiamate al 366 877 8515 ora sono pochi giorni che io ho preso padronanza di questo tema perché mi sono trovato risucchiato dentro per caso sapevo che esisteva questa problematica qualche volta me l'avevate anche segnalata nei commenti ma mi sono reso conto del numero impressionante di persone che sono coinvolte e vi dirò di più vi do ancora un altro dato dei circa 20 milioni di segnalati come cattivi pagatori dai dati ufficiali risulta che circa 6 milioni di persone 6 milioni hanno ripagato il proprio debito si sono messi in bonus come si dice in gergo eppure risultano ancora segnalati e risulteranno ancora segnalati per un lungo periodo di tempo con tutti i danni che questo gli porterà tanto e qui arriviamo ancora ad un altro punto perché signori miei c'è da incazzarsi veramente quando si va ad approfondire un tema del genere perché ti rendi conto che se queste agenzie sbagliano nel segnalare una persona oppure non tolgono nei tempi previsti la segnalazione oppure non la notificano non te la fanno seguendo le regole non pagano nulla non c'è una legge italiana per punire un atteggiamento del genere non c'è la cogenza della norma altra cosa inaccettabile non sono punibili loro sbagliano tu passi i guai per un loro errore e non puoi far nulla tutto quello che puoi ottenere al massimo se sei bravo se hai trovato il consulente giusto e far rimuovere quella segnalazione ingiusta prima dei tempi ma se non fai tutto questo loro non pagano niente tu rimani segnalato loro si vendono il dato alla banca la banca ti mette il blocco così i soldi non li darà a te ma li andrà a speculare sui mercati quando ci dicono sui giornaloni finalmente la BCS sta dando miliardi di euro alle banche interessi bassissimi arriveranno soldi all'economia reale non arriverà nulla perché le banche si siedono al proprio tavolo e decidono vogliamo prestare soldi ai cittadini o vogliamo fare le speculazioni decidono di fare le speculazioni e come li fermano i cittadini che vanno in banca a richiedere dei soldi li fermano con il bollino di cattivo pagatore chi glielo mette quel bollino addosso glielo mettono le agenzie come la CRIF chi sono gli azionisti della CRIF che è una SPA le banche stesse e il gioco è fatto ed è così che bloccano l'economia di un paese è così che vi mortificano è così che bloccano i vostri investimenti le vostre attività e danno i soldi ai soliti amici quando non li utilizzano per speculare sui mercati e quindi poi escono quegli scandali come è successo in Parlamento che vedi i politici che riescono ad acquistare case mutui e sommuti tutto alle spalle vostre che se il vostro appartamento non lo potete ristrutturare siete costretti a svenderlo e se sono milioni di italiani che sono costretti a svenderle arrivano i grandi potentati immobiliari che li acquistano signori sempre tutto ai danni del popolo dobbiamo porci andiamo fino in fondo scrivetemi se avete una vostra testimonianza scrivetemi se volete con me portare avanti questa battaglia perché la faremo avvalendoci di consulenti seri adesso li selezioniamo e li mettiamo sotto la lente quando abbiamo formato la squadra andiamo avanti come dei carri armati siamo 20 milioni andiamo a vedere se questa volta come si dice in gergo banco vince sempre io credo che le banche questa volta la battaglia la perdono io vi ringrazio aspetto la vostra email a noi chiocciola francescomodio.it o un vostro messaggio whatsapp al 366-877-8515 un saluto a tutti da francesco amode